Bella a tutti ragazzi, sono Peppegiogamers e siamo di nuovo sulla, come avrete letto dal titolo, nella seconda parte del nostro Minecraft Mondo Survival. Ragazzi, come mi avete detto in alcuni consigli, cioè di, dato che i video durano 15 minuti, avete detto di fare qualche cosa in telecamera on, modalità on, cioè a telecamera spenta, in modo che non vi annoio troppo quando faccio le cose. Beh, questo ragazzi sarebbe un bel consiglio di non fare tutto a telecamera scesa, o se no vi annoio troppo, perché alcuni infatti mi hanno fatto i consigli di alcune cose che costruisci velocizza il video. Però, ragazzi, non so come cavolo si fa, devo scaricare solamente qualcosa sul computer, l'applicazione sul computer per farlo e lo farò. Allora, quindi ragazzi, ieri ho fatto un cavolo, così sto soltanto in letto. Poi, un'altra cosa che volevo fare, per non fare un telepilli, ci metterò, sono davanti la casa. Eh, ragazzi, dato che voglio approvare se... Ah, oh, ragazzi, ragazzi, c'è degli alberi! What the fuck? La prima volta che troviamo gli alberi in questo cazzo di mondo. Dopo... Un giorno. Allora, c'è due subaggraf, due o tre. Ah, allora, intanto qui abbiamo dei belli a busti e anche il lupo. Noi lo abbiamo qui. Lo so, ragazzi, alcuni di voi mi hanno detto che l'audio non si sente tanto bene. Però, ragazzi, non sono ancora ben attrezzato, ma più in là mi attrezzerò bene con cuffie, microfono e tutto. E più in là anche con la webcam. Se voi mi fate vedere il vostro supporto, che mi aiuterete a fare queste cose e a continuare il mio canale, a portarlo avanti. Ci lavorerò su e compierò webcam, giochi, tutti quei giochi che volete voi, qualsiasi cosa, ragazzi, qualsiasi cosa. Poi, ragazzi, vi voglio dire una cosa. No, non mi voglio di niente. Dobbiamo levare la sola parte di questa legna. Perché adesso vi faccio vedere che cosa ho in piano. Allora, questo qui lo vediamo qui. Ok, vabbè, qui non ci abbiamo niente, non ci serve niente. Allora, adesso continuiamo a ritornare nella nostra casa. Andiamo un attimo. Allora, adesso andiamo, 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 andiamo. E ci facciamo anche male. Aspetta, no, non era questa. Mi scordo sempre quale è la mia casa. No, giusto, però. Ok, ragazzi, non vi ho detto di metterlo queste cose fino avanti, così non entriano alle 12. Giusto, nuove il tempo per farli abituare, poi gli fanno rientrare. Qui sono una stecca, altro di questo. Ci facciamo un piccolo, una spada, e basta. Andiamo questo schifezzo da qua dentro. E ragazzi, direi di incominciare la nostra bellissima scavata. Possiamo andare. Possiamo andare. Io solo per i due giorni metterò questi cosi davanti alle porte, perché in modo che i villici fino a quando i villici non moriranno per colpa degli zombie, e a noi non ce ne fotte proprio niente, quando moriranno non rientranno più nella casa. Tra l'altro, dobbiamo scavare un bel po'. Porca. Come al solito, ragazzi, ci saranno di nuovo sempre dei video come ogni volta. Perché la chiave, attenzione. Non ci scaviamo un bel sotto. Oh, non credo che ci stavano. Vabbè, qui non puoi scendere i video, sembra. Ah. Vabbè. Direi che va bene così. E così. Poi direi anche di andarci a prendere di queste docce. Non mi arrabbiate. Allora, adesso andiamo a vedere qui. Piazziamo una torcia proprio qua. Ok. Possiamo continuare a scavare. Qui, sicuramente, ragazzi, vi continuiamo a scavare. No, ho levato la torcia. Attenzione. Allora, adesso continuiamo a scavare questa cosa infinita. Ragazzi, alzo un po' la voce perché se non ti sento un cavolo. lo so, e... No, ragazzi, ecco. Ehm... Andiamo a scavare. Ehm... Andiamo così, se non... Ah, ferro! Ehm... Che cazzo sto facendo? Mi ero scordato che il ferro... Si tagliava in questo modo. No, venite, no! Ah. Vai a farlo. Ah. Vola. Ehm... Magari anche un po' di questo. Ehm... Ci serve... Un po' di questo. E... Passiamo qui. E papà. Possiamo... Possiamo cominciare a posare questo, questo. Questi due ce li portiamo in questo modo. E... Possiamo incominciare a portare. Villi, a te non ti faccio passare. Ehm... No... Ma... Ehm... 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 Ragazzi... Continuiamo! 운�... Piipi pii, 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 pi paper, piop... Continuiamo a scavare, scavare, scavare. Non ci vede anche più lo insieme. un po più veloce con quella di pietra infatti facciamo un po in questo modo e incominciamo a scavare un po sotto e poi andare verso i zombie perché ci potrebbe essere uno spawn e può darsi che troviamo qualcosina di importante giriamo sotto di qua continuano sempre a girare di qua e poi cominciamo ad allargare guardate una veliera una grotta come come la volete chiamare voi mettiamo la torsia qui perché vedo che lì già c'è un po di luce sicuramente c'è la lava ragazzi che vi rompere un po qua il ferro credo e ragazzi siamo arrivati a non alla fine del video ma diciamo gli ultimi cinque minuti ecco abbiamo fatto questa mini scalinata bene qua abbiamo la lava allora la scalcheremo in questo modo no via via vabbè ragazzi qui continuano a scegliere meglio in questo modo direi di scavare anche un po di carbone perché ci serve il carbone per le torce guardate quando carbone raga poi direi di fare anche una farm di ferro in continuo però secondo me la farò in telecamera off perché ci vorrà un bel po secondo me in 15 minuti non ce la facciamo affare ragazzi però io vedo giusto come fare boh intanto io sento anche gli slime qui sotto scaviamo anche qui ricordatevi non vi scavate mai sotto i piedi attenzione allora qui ci dovrebbe essere qualcosa ragazzi perché di solito c'è la terra o ci sono degli spawn o c'è qualcosa no non c'è ben niente no non lo posso vedere non c'è ben niente vabbè raga io lascio giusto scavo un attimo qua così in questo modo ci facciamo tipo una scavenata per poi salire appunto aspettate qui le diamo giusto per passare questo modo per cui scaviamo questo modo e lascio questa scavenata così per poi ritornarci in seguito e adesso dire raga di prendere un altro po di pietra una buona ce l'abbiamo già abbastanza per farci un po di torce e ragazzi direi di ritornare alla nostra casa qui scaviamo giusto appunto per mettiamo cosa ormai una torcia qui in questo modo poi risaliamo tutto questo ambarazzolam e andiamo e allora ragazzi ci siamo recati alla fine del video ragazzi spero che il video vi sia piaciuto condividete su facebook o dove altro volete voi lasciate un commento lasciate anche un bel like eeeh ragazzi ci vedremo fra una mezz'oretta al prossimo video video no